Se fare confronti è una cosa che ci viene spontanea, dobbiamo non insistere, non fare graduatorie, perché Dio non ragiona in questo modo, Dio ci dà il Papa giusto per ogni tempo. E in questo noi dobbiamo trarre motivo per ringraziare l'onniscienza di Dio, che sa dare all'umanità ciò di cui l'umanità ha bisogno stagione dopo stagione.